Eder McPallister Arrivato l'esito dell'autopsia sul corpo di Margherita Cescine, la 72enne di Conegliano, trovata senza vita sul divano della sua abitazione, di via 28 aprile, qualche giorno fa. Sarebbe stata stordita prima con un colpo alla testa e poi soffocata. A dare l'allarme a alcune amiche che non l'hanno vista arrivare a un appuntamento. Le stanze a suo quadro avevano da subito insospettito e fatto pensare all'azione di un ladro. La donna è stata aggredita. Ora l'esito dell'autopsia ha scartato l'ipotesi di una morte naturale. Dall'appartamento mancherebbe anche il suo portafoglio. Si cerca il responsabile, già acquisiti filmati delle videocamere di sorveglianza della zona. Indagano i carabinieri coordinati dalla procura di Treviso. Edelmetalliser. 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 Edelmetalliser.